ciao a tutti cosa sai del testosterone molti di noi non ci pensano me compreso il testosterone è prodotto principalmente dagli uomini è uno dei componenti chiave per lo sviluppo muscolare e la forma fisica maschile se stai cercando di rimetterti in forma devi sapere quali sono le scelte e le abitudini di vita che abbassano i tuoi livelli di testosterone ne parliamo nel video di oggi 1 mancanza di sonno il sonno non solo influisce sulle prestazioni mentali ma anche su quelle fisiche molti di noi pensano che solo perché facciamo attività fisica non abbiamo bisogno di fare tutte le altre cose salutari della vita la realtà è che queste cose sane aiutano direttamente la nostra forma fisica se non dormi il tuo corpo non recupererà correttamente dopo l'allenamento hai bisogno di tempo per riposare la maggior parte del testosterone giornaliero negli uomini viene rilasciato durante il sonno se stai cercando di costruire massa muscolare hai bisogno di testosterone ne hai bisogno anche per la densità ossea parliamo un attimo del vigore il vigore è la quantità di forza fisica e di energia che mostri è lo stato generale della tua salute durante la giornata il testosterone determina questo aspetto e in modo importante nel 2011 è stato condotto uno studio su un gruppo di 10 uomini giovani e sani per verificare quali fossero gli effetti della mancanza di sonno sulla loro salute generale coloro che venivano privati di tempo prezioso per il sonnellino registravano anche un calo del vigore come regola generale assicurati di dormire dalle 7 alle nove ore a notte non fraintendermi rispettare questa quota ogni singola notte è un compito impossibile per un adulto tutti i nostri orari sono diversi ma se vuoi metterti in forma e avere più energia in generale assicurati di avere del testosterone 2 stanchezza gli uomini con il testosterone basso possono accusare un'estrema stanchezza e un calo di energia se sei sempre stanco nonostante tu dorma molto o se ti è più difficile motivarti a fare esercizio potresti avere il testosterone basso 3 diminuzione della massa muscolare gli uomini con testosterone basso possono notare una diminuzione della massa muscolare poiché il testosterone contribuisce alla costruzione dei muscoli uno studio di revisione del 2016 ha rilevato che il testosterone influisce sulla massa muscolare ma non necessariamente sulla forza o sulla funzione 4 aumento del grasso corporeo i maschi con testosterone basso possono riscontrare un aumento del grasso corporeo o sviluppare la ginecomastia ovvero l'ingrossamento del tessuto mammario la ginecomastia può verificarsi quando c'è uno squilibrio tra testosterone ed estrogeni nell'organismo 5 diminuzione della massa ossea l'osteoporosi è una patologia che molti associano alle donne ma anche i maschi con testosterone basso possono subire una perdita ossea il testosterone aiuta a produrre e rafforzare le ossa quindi i maschi con testosterone basso soprattutto se anziani possono avere un volume osseo inferiore ed essere più soggetti a fratture 6 cambiamenti d'umore gli uomini con testosterone basso possono subire cambiamenti di umore poiché il testosterone influenza molti dei processi fisici dell'organismo può influenzare anche l'umore e le capacità mentali 7 memoria alterata sia i livelli di testosterone che le funzioni cognitive in particolare la memoria diminuiscono con l'età di conseguenza i medici hanno teorizzato che una riduzione dei livelli di testosterone possa contribuire a compromettere la memoria secondo studi di revisione del 2019 l'integrazione di testosterone è collegata a un miglioramento della memoria negli uomini anziani con testosterone basso anche se l'effetto potrebbe essere minimo tuttavia uno studio del 2017 sull'integrazione di testosterone non ha rilevato miglioramenti della memoria in 493 uomini con bassi livelli di testosterone che hanno assunto testosterone o un placebo